ma cosa mai mi tocca vedere oggi non ci sto credendo pure la juve che perde a monza a monza i primi punti di silvio grazie silvio grazie presidente a no a no a no sbagliato squadra e monza non è il minan scusate scusate vecchie rimembranze ma com'è possibile ma com'è possibile la squadra più forte d'italia che doveva vicere lo scudetto con 10 giornate d'anticipo che se la prendeva col varco la salernitana per i punti persi che mi va a perdere mi fa fare la prima vittoria il monza è una domenica goduriosa è una domenica goduriosa e spero di chiuderla in maniera molto più goduriosa ma dai non ci sto credendo il più forte centravanti del globo terrestre il più forte c'è tornato pubba preso paredes che era fortissimo il miglior difensore al mondo un muro gelson bremer fortissimo e di maniera che si fa espellere ma è tutto ciò è meraviglioso meraviglioso allegri e si vuole in zaghi io vi ringrazio per le risate che mi state facendo fare tutti dicono in zaghi out e allegri out ma io spero che rimaniate a vita perché mi state rallegrando le giornate occhio non sarà facile oggi ci mancherebbe stasera è difficile anche per noi ma è sa va a san dir non ci abbiamo neanche le au loro non hanno si men non voglio scuse perché nei momenti duri il milan tira sempre fuori due mele così quindi uniamoci tutti insieme ma intanto questa domenica sto già spruzzando gioia a parlare ciao che bello